Intervista migliore in campo Walter Ferrante e dei suoi team, complimenti. Grazie. Partita contro X-Factor, appena terminata i calci di rigore. Com'è andata la partita? È andata bene, è andata bene, anche se abbiamo pareggiato. Guarda caso, per piacere calciano, mi distrae, sono emozionato. No, abbiamo giocato bene, abbiamo dominato alla fine, solo che hanno segnato su cagate nostre. Ho visto un po' l'ultimo gol di X-Factor su deviazione vostra. Comunque, vabbè, è andata bene, è andata bene, è andata bene, il destino ha voluto che passasse alle semifinali. Senti, come la vedi questa semifinale? Doveva essere contro i Dragable, tutti sanno chi sono i Dragable. Non li conosco. Qui là con la maglietta gialla che urlano su scimmie, sono animali. Siamo più forti. Un ringraziamento veloce? A chi, a chi, a chi? Alla tua ragazza. Aldo, 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 Aldo è la mia ragazza. Ciao, Walter, ciao, ciao, ciao.